I dati registrati dall'ARPAC sono rassicuranti solo per chi già sta bene, commenta Franco Mazza, il dottore responsabile dell'associazione Medici per l'ambiente Salviamo la Valle del Sabato. I fume da cenere provocati dall'incendio del parco sul Vesuvio e dai roghi divampati in tutta l'Irpinia hanno inevitabilmente provocato dei danni alla salute dei soggetti deboli o già a rischio averte mazza ingiustificata l'assenza degli enti predisposti alla tutela dell'ambiente e della salute in quei due giorni di apprezzione e timore dei cittadini. La definizione di alcuni parametri è importante ma va sempre presa con le pinze perché finché ci troviamo di fronte a persone in perfetta salute quei valori non sono preoccupanti, non sono allarmanti. Ma il problema è che quell'aria la respirano tutti, quindi la respirano i bambini, la respirano le persone con scarse difese già defedati, con problemi respiratori. In quei casi là probabilmente invece qualche disturbo c'è stato. Noi abbiamo avuto due giornate critiche, il giorno 11 e il giorno 12. Il giorno 12 in particolare c'è stato un picco per le PM10, poi l'ARPAC per il suo sistema che ha i dati ce li comunica il giorno dopo, cioè la mattina successiva. Quindi noi solo il giorno dopo abbiamo appreso che c'è stato un picco elevato per le PM10, per l'ozono che si è prodotto a seguito dell'irraggiamento solare e per l'inquinamento dell'aria prodotto principalmente dagli ossidi di azoto, che è un gas estremamente pericoloso perché è irritante per le vie respiratorie. Sono avuti picchi molto elevati anche qua in città, quindi voglio dire sì, non c'è l'allarme, però dal punto di vista sanitario questi dati sono importanti per quella parte della popolazione che ha problemi di natura asmatica e soprattutto quindi di natura respiratoria. A mio avviso nella giornata del 12, la mattina del 12 non bisognava aspettare nessun dato, ma le autorità sanitarie locali, in particolare i sindaci, alcuni lo hanno fatto, voglio dire ad esempio il sindaco di Atripalda, di Prata e di Pratola, hanno emesso delle ordinanze dando delle indicazioni di buonsenso. Era talmente evidente che c'era una situazione difficile e io mi aspettavo che qualcuno desse delle indicazioni di protezione, di prevenzione di protezione per la popolazione, cosa che purtroppo non c'è stata.